sabato 8 maggio buongiorno ben ritrovati cari telespettatori di fan tv questa è la rassegna stampa occhio ai giornali commento la stampa del giorno che faremo tra poco intanto come sempre vediamo il santo e poi il tempo allora il santo di oggi lo vediamo subito è san vittore il sole sorto alle 5 52 tramonterà le 20 e 23 torna il maltempo dal lunedì con le previsioni di trebimeteo.com rischio nuovi nubi frage temporali ultimi aggiornamenti però sabato la domenica lo passeremo relativamente tranquillo almeno dal punto di vista diciamo del tempo con le immagini di oggi questa mattina un po di nuvole sul pesarese in particolare nel pomeriggio migliora solo velature sparse la sera niente da segnalare poi domani domani è domenica 9 maggio ecco la mattinata con tanto sole pomeriggio stessa cosa e domenica sera lo stesso farà solo un po più diciamo fresco rispetto agli altri giorni anche da noi lunedì diciamo la prossima settimana si apre bene senza grossi grosse cose da segnalare ma è martedì che in realtà andiamo a vedere velocemente ecco martedì pomeriggio guardate come cambia la situazione nella nostra regione con temporali sparsi ovunque la sera piogge anche abbondanti da nord a sud cari telespettatori cari telespettatori della provincia di pesero e urbino che ci seguite come sempre in tantissimi allora noi ogni mattina facciamo un po il bilancio della situazione pandemica cerchiamo di analizzare di agevolarvi la vita leggendo i dati sintetizzando un po le notizie che poi potrete invece approfondire comprando il giornale in edicola e qui la situazione nella provincia di peso urbino non è per niente rosea non è per niente bella e qui si rischia davvero grosso si rischia grosso perché già c'è un precedente un precedente che è quello di ancona e questa mattina lorenzo sconocchini sul corriere adriatico in prima pagina di spalla fa un articolo scrive un articolo a mio giudizio interessante anche corretto che adesso andiamo a leggere perché speriamo che questo serva a prendere coscienza anche se ormai credo che ci sia poco da fare nel senso che ormai ognuno va per la sua strada quello mi pare questo mi pare di aver capito la stanchezza è tanta siamo a ridosso di un'estate l'idea che si possa tornare in zona arancione e addirittura in zona rossa non viene presa nemmeno in considerazione dalla gente ma è reale è un fatto reale perché perché siamo a poco pochissimo distanti da quell'uno rt che fa scattare in automatico l'arancione e sto parlando della regione non solo della provincia e allora andiamo a vedere questo questa prima pagina del corriere adriatico e andiamo a leggere questo editoriale di lorenzo sconocchini chiudere subito pesero per salvare le marche e già qui si capisce un po l'antifona di cosa stiamo parlando ed è rivolto al governatore acquaroli questo invito a chiudere subito pesero per salvare le marche caro governatore scrive sconocchini il vantaggio di chi affronta un'epidemia è che i fenomeni nel succedersi delle ondate si ripetono e così osservando la curva dei contagi nella provincia di pesero e urbino ieri arrivata a 140 casi settimanali ogni 100.000 abitanti quindi due volte e mezzo Ancona che invece era molto meno appunto sembra di rivedere in scala ridotta il trend seguito appunto da Ancona da metà gennaio a inizio marzo e tutti noi lo ricordiamo la curva del capoluogo si era staccata dalle altre quattro per trasformarsi in una locomotiva capace di trainare le marche in zona arancione da inizio marzo e a metà mese in zona rossa le misure da lei governatore acquaroli tentate allora per spegnere l'incendio nell'Anconetano si erano rivelate inefficaci quali erano queste misure con fini chiusi ma con misure da zona gialla poi arancione per cinque giorni nei venti comuni più esposti insomma molto blande potremmo dire no e tanto che a inizio marzo Ancona era la seconda provincia più infetta d'Italia e sempre lei poi fu costretto a dichiarare la zona rossa troppo tardi per scongiurare che l'intera regione finisse due settimane dopo in lockdown adesso caro Caroli dopo aver messo in zona rossa quattro per quattro giorni quattro comuni del pesarese allentando e stringendo le micro zone in base ai contagi la domanda è non pensa sia inutile ripercorrere la stessa strada delle frenatine che a marzo hanno portato le marche in lockdown non sarebbe il caso a meno di un crollo immediato dei contagi di frenare più forte con una zona rossa o arancio rinforzato più estesa che a pochi comuni chiedendo sacrifici ora ad una provincia la provincia di Pesurbino per provare a salvare in giallo le altre quattro di province l'incendio sarebbe sedato anziché aspettare che divampi come ad Ancona a febbraio e anche Pesaro tornerebbe prima e con meno danni per la salute e l'economia alla normalità detto senza presunzione nel rispetto dei ruoli accetti i nostri consigli o i marchigiani sapranno di chi è la colpa del prossimo incendio che a questo punto non sappiamo se è del governatore oppure che non ha fatto quello che doveva fare oppure dei pesaresi intesi come abitanti della provincia di Pesurbino che invece hanno continuato a fare un po' come gli pare ecco allora questa è un po' la situazione è chiaro che ci vorrà ancora qualche giorno un giorno due per capire se questo aumento dei contagi nella provincia di Pesurbino è dovuto e lo scrive ancora Sconocchini sull'altra pagina del Corriere Adriatico se questo rialzo degli ultimi giorni è dovuto solo a un imbuto delle diagnosi che si era creato con il ponte del primo maggio oppure se è davvero l'inizio di una impennata da fermare da stoppare prima che sia troppo tardi ok quindi si seguirà in particolare il trend dei casi sintomatici quelli che incidono nella stima dell'RT perché due settimane fa cari telespettatori l'indice RT era 0,69 nel precedente report era salito a 0,81 in quello di ieri è cresciuto fino a 0,94 avvicinandosi ancora la soglia critica del valore 1 che fa scattare in automatico la zona arancione sapete cosa vuol dire zona arancione che si devono rifermare di nuovo i bar i ristoranti ma tante altre attività eccetera eccetera allora cari telespettatori ne vogliamo uscire sì o no da questa situazione perché bisogna essere chiari quando io con i miei occhi vedo ancora fuori dai bar gente giovani soprattutto con il bicchiere in mano mascherina giù uno in bocca all'altro che si parlano come se niente fosse ecco tutto questo gioverà voi per quelle quella mezz'ora che state insieme con le persone con gli amici per le quattro stupidate che si diranno ma se qualcuno di voi infetto in quella mezz'ora lì fa un disastro bisogna stare distanziati anche quando si prende l'aperitivo anche quando si è al bar non bocca a bocca faccia a faccia non è a non è aria ma questa è una battaglia persa la nostra la mia che ormai parlo da frustrato tutte le mattine a predicare la stessa cosa quindi a questo punto io direi siamo e prenderemo quello che capita a questo punto viene quasi da mandare tutto all'aria dire vabbè facciamo quello che sarà quel che sarà e che Dio ce la mandi buona intanto per lunedì sono attese le decisioni della regione sui sette comuni ad alto rischio covid ci sono sette comuni a qualagna petriano fossombrone nella provincia di peso l'urbino mentre folignano acquaviva picena e castel di lama nella provincia di ascoli piceno e montappone in provincia di fermo e che sono osservati speciali anche qui la situazione non è molto buona anche se qualcuno come leggevamo ieri sindaco di acqualagna si era frettato subito a dire che l'aumento dei casi ad acqualagna era relativamente circoscritto all'ambito scolastico quindi pare che insomma tutte le persone che avevano il covid erano state individuate quindi che non c'era nessun focolaio sparso ad acqualagna che potesse alimentare e far aumentare ulteriormente i contagi però questo è un piccolo comune qui parliamo di situazioni un po diverse nella provincia di peso urbino che davvero preoccupano quindi insomma le cose sono sempre tre da fare distanziamento stare distanti mascherina anche dentro casa costo di passare passate dentro casa con la mascherina e poi l'igiene con le mani da non mettere in bocca negli occhi eccetera eccetera poi fate come mi pare ora da oggi invece questa l'altra notizia importante da oggi si prenotano le dosi per i 60 64 anni può bastare anche un sms questa è la novità questa è una novità che adesso vi dirò da mezzogiorno da mezzogiorno di oggi marchigiani tra i 60 e 64 anni potranno prenotarsi per un per il vaccino sarà possibile prenotarsi sia attraverso il portale di poste italiane sperando sempre che non vada in tilt come spesso è successo nei giorni scorsi nelle volte scorse oppure chiamando il numero verde 800 00 99 66 attivo dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 20 quindi dalle 9 del mattino alle 8 di sera e poi c'è anche il cellulare c'è anche il sms questa è la novità di cui parla anche il corio adriatico attivato un ulteriore metodo di prenotazione per il vaccino ovvero il un sms basta inviare un sms al 339 99 0 39 47 lo vedete qua facciamo così lo segniamo di rosso sotto così ecco potete fargli la fotografia col cellulare e poi scriverlo con calma quel numero lì a quel numero lì potete mandare un sms i cittadini potranno quindi bloccare la dose semplicemente inviando un messaggio con il codice fiscale quindi il vostro codice fiscale nel testo del messaggio a questo numero che vi ho appena detto che potete fare ecco poi entro 48 72 ore dopo che avete mandato questo sms arriverà anzi verrete contattati dal servizio clienti di poste italiane per procedere telefonicamente alla scelta di luogo e data dell'appuntamento va bene quindi questa è la novità invece per per chi invece deciderà di chiamare il numero verde per esempio bisognerà avere oltre ai dati personali anche il numero di tessera sanitaria e il codice fiscale oltre che comunicare un numero di cellulare che sia il vostro cellulare perché poi inutile dare il cellulare della figlia la figlia risponde non risponde eccetera dovete averlo sempre voi così quando vi chiamano siete pronti vaccini questo è il resto del carlino allora dal resto e da questo articolo del resto del carlino invece ho segnato ho evidenziato invece un'altra parte che è importante a mio parere è che è questa un po che fa un po la fotografia di com'è la situazione vaccinale nelle marche allora rimane per esempio ecco questo è importante da concludere la vaccinazione degli over 80 quindi non tutti gli ottantenni sono stati vaccinati nelle marche ce ne sono almeno 7 8 mila non sono pochi rimane ancora da concludere la vaccinazione degli over 80 con problemi di mobilità che non si sono prenotati direttamente o non hanno ancora ricevuto la visita dei medici di base si tratterebbe di 7 8 mila anziani ancora da raggiungere e la regione si sta organizzando per farlo al più presto mentre la fascia d'età dei settantenni ha nel frattempo già raggiunto il 75 per cento di vaccinazioni mentre la fascia d'età 65 69 ha già superato l'85 per cento dei vaccinati beh sono numeri importanti tenendo conto che poi quando diciamo sarà finita saranno finite tutte queste questi questi blocchi chiaramente bisognerà convincere quelli che non si sono voluti vaccinare perché tra questi ci sono anche quelli che non vogliono né telefonare né mandare sms né iscriversi perché dicono aspettiamo io sto bene non ho mi fido dei miei anticorpi mangio bene cerco di stare un po al sole per prendere la vitamina d insomma mi fido più del mio sistema immunitario che del della profilassi vaccinale insomma ci sono tutti quelli che rimarranno fuori e che non si sono voluti appunto vaccinare perché ricordiamolo il vaccino non è obbligatorio però vedo che i numeri sono importanti insomma soprattutto nella fascia ma anche quella 65 69 anni insomma un 85 per cento significa che solo il 15 per cento ha deciso di non al momento di non vaccinarsi se ho letto bene i dati oppure si si riferisce 85 per cento al 100 per cento di coloro che si sono iscritti ecco che è diverso su questo bisognerà riflettere perché non credo che sia così però vedremo vaccini in farmacia corsa ad ostacoli anche qui c'è la possibilità di vaccinarsi in farmacia ma ancora siamo in alto mare mancano le indicazioni da parte della regione per partire con il servizio non ha predisposto infatti la regione l'elenco dei tutor né definito l'età di chi può rivolgersi al farmacista l'unica cosa che sappiamo di sicuro come scrive Letizia Francesconi questa mattina che per esempio a pesaro ci sono 39 strutture tra pubbliche e private farmacia e pubbliche private che aderiscono al servizio e che 30 farmacie del pesarese hanno completato il corso abilitante teorico e quindi stiamo tentendo da giorni un po' il da farsi quindi già i corsi preparatori corsi di formazione per il personale che poi dovrà fare il vaccino la puntura sono stati fatti adesso però mancano ancora un po' di cose da definire poi c'è un'intervista sul Corriere Adriatico di questa mattina la diffusione è sostenuta ma facciamo più tamponi per la variante inglese parla Augusto Liverani 54 anni che il direttore responsabile dell'unità operativa complessa igiene sanità pubblica e prevenzione malattie infettive della revasta 1 quindi della nostra provincia e Liverani dice non solo effetto Romagna e scuole ma ci sono altre cause che stanno portando avanti stanno facendo sì che questo virus continui a diffondersi anche da noi il calo non c'è stato ma ora non è più marcato come nelle altre province meglio stringere subito è un tema politico conta seguire bene le misure base che sono le misure che vi ho appena detto intanto sul coprifuoco l'Italia sta discutendo se continuare o meno alle 22 però pare che questa cosa delle 22 cadrà molto presto questo limite delle 22 l'obiettivo è arrivare a permettere le cene dentro i locali almeno fino alle 23 e 30 nelle zone di colore giallo quindi dalla Lega e 5 stelle dal PD alle regioni stop al limite delle 22 e consumazione all'interno prima di giugno pare che il 18 quindi fra una settimana circa dovrebbe decadere questo questo limite delle 22 e quanto meno prolungarlo per prolungarlo fino alla mezzanotte e io resto dell'idea che insomma il coprifuoco non serva assolutamente a nulla se non ad innervosirci ulteriormente altri dieci giorni dieci giorni di chiusura per il ristorante di carriera siamo di nuovo a pesero lui si sbeffeggia lui sbeffeggia su facebook prefettura e autorità e scrive glielo dite voi dove mettere la notifica rivela di non aver pagato nessuna delle multe ricevute e quindi c'è questo nuovo ordine di chiusura di dieci giorni per l'osteria delle candele di Umberto Carriera ma il locale di Candelara ha già le serrande abbassate è aperto solo da metà settembre a metà maggio e carriera sbeffeggia la prefettura sul suo profitto facebook scrivendo il circo della prefettura di pesero va avanti scrive l'imprenditore pesarese sulla sua bacheca sei mesi dopo la sanzione con chiusura per cinque giorni dell'osteria delle candele mi arriva a casa un atto in cui visto che non ho pagato la sanzione di 400 euro e non ho fatto ricorso al giudice di pace ordinano la chiusura per altri dieci giorni dell'osteria delle candele e poi insomma racconta un po' così sarcastico sì un po' quello che come la pensa e quello che farà poi prossimamente intanto sulla pagina di pesero pagina 4 del resto del carino anche oggi si parla di quella giovane di 18 anni che è stato portato con un trattamento sanitario obbligatorio un TSO all'ospedale psichiatrico di pesero perché? Perché nei giorni scorsi si era legato al banco di scuola senza mascherina protestando contro tutto il sistema il tribunale convalida questo TSO scrive il giornale questa mattina e a muraglia spuntano i no mask i no mask sono quelli che come dice il nome sono quelli che non vogliono mettere la mascherina quelli che si impuntano su questo, quelli che non ne vogliono sapere questo caso del 18enne tra l'altro sarà vagliato anche dalla procura cui sono stati trasmessi tutti gli atti intanto ci sono questi gruppetti di manifestanti che si sono ritrovati anche sotto l'ospedale e che ieri sono stati identificati dalla polizia ma c'è questo articolo di Spalla che riguarda invece quest'altro personaggio che sembrava un personaggio misterioso ma che poi tanto misterioso appunto non è perché Carlino lo definisce il suggeritore e chi è? è Lamberto Roberti, l'amico del 18enne, titolo del giornale di questa mattina si tratta di un 67enne negazionista che non vede l'ora di andare in procura e l'uomo, questo uomo dietro le quinte del 18enne fanese si chiama appunto Roberti nato a Fano, residente a Pesero nella sua pagina Facebook c'è scritto parlamentare indipendente perché dice lui ho depositato un mio simbolo Roberti ha molta esperienza alle spalle è stato candidato al Senato per la lista del giudice in groia e lui dice non vedo l'ora che mi chiamino i giudici per la storia del ragazzo e poi racconta, perché è stato intervistato dal giornale racconta insomma dove era, cosa ha fatto, cosa non ha fatto e per esempio l'unica cosa che posso dirvi per stimolarvi la lettura e l'acquisto del giornale quando ha letto che la preside della scuola che frequenta questo ragazzo 18enne la preside ha detto che sarebbe scesa in strada per darle un pugno in faccia lui risponde sì ho letto, ho letto l'articolo e sto valutando se denunciarla ma comunque ho presentato un esposto denuncia contro la preside, il vice eppure gli insegnanti andiamo avanti allora, adesso c'è questa bella notizia che arriva da Fano con la nuova Federiciana, uno scrigno trasparente abbiamo la biblioteca dopo la memo arriva il turno della Federiciana il progetto della biblioteca che prenderà il posto dell'archivio di Stato terrazze sospese e micropiazze su quattro livelli insomma a vederlo da qui questo rendering che vi abbiamo fatto vedere anche ieri sera dal telegiornale poi in una conferenza che abbiamo trasmesso in diretta ieri mattina dalla sede della Navigazione Montanari è un rendering davvero molto bello un progetto da 5 milioni di euro un progetto straordinario che rilancerà sicuramente Fano e diventerà Fano una tra le città culturali più importanti dal punto di vista delle biblioteche perché è un progetto davvero strepitoso e guardate che cosa al di là appunto del rendering insomma c'è questo intervento dice l'architetto Cucinella che coinvolge la ricostruzione di un intero isolato quindi c'è questa collaborazione tra l'altro fondamentale importante con il Presidente Corrado Arturo Montanari una collaborazione che dura da 11 anni e si fonda su due pilastri la reciproca fiducia e il bene comune questa volta la Fondazione Montanari metterà a disposizione il progetto esecutivo pronto per l'avvio dei lavori per un importo di oltre 400 mila euro e il comune ha reperito le risorse 75 mila euro attraverso il Ministero dell'Interno per la progettazione esecutiva della riquilificazione della parte storica e la ristrutturazione della federiciana ha chiarito Montanari non è un'azione di responsabilità sociale d'impresa né di mecenatismo ma un nostro dovere interveniamo perché è un dovere farlo e perché ci rende felici scrive Anna Marchetti in questo articolo che riporta tutti i momenti importanti di questa conferenza che c'è stata ieri nella quale appunto si spiega che cosa succederà da qui in avanti e anche il Corriere Adriatico Piazza del Sapere alla Federiciana biblioteca ingloberà il magazzino incantevole addirittura vedete progetto finanziato dalla Fondazione Montanari scrigno trasparente con terrazze a sbalzo l'opera dell'architetto Cucinella fonde storico moderno il sindaco e l'assessore entusiasti ma direi che oltre al sindaco e l'assessore tutti noi lo siamo la stanza degli abbracci invece sulla pagina di fama ancora del Corriere fa emozionare gli anziani commoziona la don Tonucci per il gonfiabile che consente i contatti con i familiari la struttura è tornata ad accogliere nuovi ospiti le vittime del Covid sono state 14 sotto la cronaca invece fiutata la cocaina termosigillata nelle scarpe il controllo della polizia al casello della 14 va a buon fine grazie al cano antiroga della Guardia di Finanza e ancora c'è l'autopsia per verificare la dinamica fatale della morte di quel 95enne Abdon Talamelli che a cannelle di Carrara di Fano è morto l'autorità giudiziaria ha disposto l'autopsia per accertare quale sia la causa ad aver provocato appunto la morte di quest'uomo che secondo una prima ricostruzione è deceduto sul colpo a causa di una tremenda caduta dopo essere sceso da un trattorino a quattro ruote forse per verificare se nella fresatrice agricola a Rimorchio si fossero aggrovigliati un grosso trancio oppure una radice si era bloccato e quindi è sceso e poi lì è morto dal Carlino pagina 7 promossi moglie e mariti dei direttori generali hanno vinto un concorso pubblico sono 10 medici verranno presentati oggi all'ospedale di Urbino dal direttore Magnoni della Revasta 1 il quale si dice felice dell'evento e dice certo finalmente vengono ufficializzate le nomine dei nuovi direttori di dipartimento a distanza di 5 o 6 mesi dall'incarico ma l'emozione per il dottor Magnoni potrebbe essere doppia infatti tra i promossi c'è anche la moglie dottoressa Simonetta Montesi e andando a Urbino invece sulla pagina 20 ancora cronaca un nippocastano un albero che cede che cade si spezza vedete la foto si riapre il tema adesso della sicurezza la manutenzione degli alberi torna al centro dell'attenzione l'assessore Guidi stiamo facendo un lavoro molto ampio di monitoraggio anche perché in questi giorni il vento è un tormento ci sta dando veramente non ci sta dando tregua speriamo che oggi finisca il comune il nuovo ponte non si chiude siamo a Senigallia il ponte 2 giugno non si chiude l'impresa lascia aperto un marciapiede i pedoni continueranno quindi a transitare anche dal 17 al 22 di maggio i commercianti temevano infatti l'isolamento e poi sempre da Senigallia e con questa chiudiamo ma chiudiamo e ci facciamo ma nemmeno una risata perché non si sa se ridere o se piangere di fronte a queste cose così un po' boh giudicatele voi guardate la fotografia che cos'è? beh c'è scritto nel titolo barra gonfiabile una barra gonfiabile la nuova moda dell'estate ma vi pensate andare a fare il bagno al mare dentro una barra gonfiabile un senigallese l'ha messa in vendita su Facebook ho già ricevuto una marea di richieste pensate negli Stati Uniti sta spopolando e non c'è da meravigliarsi l'informazione finisce qui grazie per essere stati con noi abbiamo commentato la stampa del giorno ci rivedremo ogni mattina alle 7 grazie per essere stati con noi appunto e buon fine settimana grazie per aver guardato il video